Dekigeemu, presenta ha ancora avuto il coraggio di tradurre in occidente se non in qualche rara occasione che è stata presto abbandonata alcuni di questi mangaka sono probabilmente sconosciuti anche ai lettori giapponesi ma ovviamente se sei un appassionato di manga alternativi probabilmente riconoscerai alcuni di questi nomi hanno tutti uno stile particolare tra disegni e tauma, scarabocchi astratti e personaggi fuori dai normali canoni estetici insomma amo il loro stile però non perdo tempo a descriverli uno per uno e ti faccio solamente un riassunto dell'autore e dei suoi fumetti e poi ti basta vedere i disegni come esso se conosci qualcuno che lavora per una casa editrice abbastanza coraggiosa per tradurre questi autori mandagli il video che magari lo convinciamo e tra qualche anno diventeranno tutti dei mangaka commerciali anche qui da noi il primo autore è Kotobuki Shiryagari che disegna un sacco di cose diverse tra personaggi deformi con volti e occhi che sembrano quasi presi da uno shoujo manga ma anche altre storie con linee essenziali e scarabocchi di ogni tipo naturalmente non capisco nulla di quello che succede ma solamente vedendo i disegni sembrano delle situazioni davvero assurde e demenziali di solito viene descritto come un autore tauma tra gag, d'umorismo e surrealismo e sembra che ha iniziato a disegnare e pubblicare manga negli anni 80 facendo proprio delle parodie dei vecchi autori degli anni 50 e 60 per poi iniziare a raccontare nella sua maniera, nel suo stile la vita quotidiana del Giappone con tutti i suoi ruoli della società quindi i classici dipendenti che lavorano 300 ore al giorno o gli studenti svogliati in occidente di su è stata pubblicata una storia sulla raccolta AX alternative manga e poi Jakaranda che è uscito in Spagna e in Francia però è una storia molto più normale che parla di questa specie di albero che distrugge la città poi c'è Anako Yamada che era l'alias di Yumi Takahichi nata nel 1967 e poi morta suicida nel 92 ed è un'altra delle autrici pubblicate su Garo e altre riviste simili dove raccontava delle storie di vita quotidiana tra scuola, lavoro e rapporti interpersonali però filtrate da una certa violenza sesso esplicito e difficoltà dei rapporti umani in particolare di suo adoro le facce deformi piene di particolari e rughe e strani sorrisi inquietanti di lei hanno pubblicato uno o due storie su alcune delle raccolte di manga alternativi uscite in America però da quel momento in poi non hanno più tradotto altro quindi ci sono interi anni di sue opere che rimangono inedite in occidente tra l'altro visto che in Giappone è uscita un'antologia pubblicata post mortem che dovrebbe intitolarsi Tamashi no Asoko quindi potrebbe essere l'ideale da tradurre e pubblicare anche da noi semmai qualcuno avrà voglia di farlo Tsubame Kamogawa è nato nel 1957 e durante la sua carriera all'inizio è stato anche assistente del mangaka Baron Yoshimoto che è abbastanza famoso e anche da noi sono uscite due raccolte se non ricordo male una forse in inglese e una in italiano invece Tsubame che è stato conosciuto anche come Tokyo Chick è stato attivo tra gli anni 70 e i primi anni 90 disegnando manga demenziali completamente senza senso esattamente il tipo di storie che adoro che mi fanno un sacco ridere tra questi ad esempio c'è Macaroni Orensu con uno strano mix tra personaggi deformi e altri invece con proporzioni reali che si ritrovano assieme e vivono delle situazioni incredibili tra citazioni del folklore giapponese a personaggi famosi di quegli anni che appaiono nelle sue vignette quindi da un momento all'altro trovi cose tipo concerti con giovani affascinanti che ballano e poi magari dopo qualche pagina ci sono dei personaggi super deforme a cui esce un elica dal culo e cominciano a volare da una parte all'altra Carol Shimoda se non ricordo male è un'altra delle autrici che erano dentro nel collettivo Eta Uma di King Terry e ogni tanto si firmava anche come emico Shimoda ha pubblicato un sacco di roba negli anni 80 su Garo ovviamente e altre riviste e si divertiva un sacco a disegnare parodie dei classici shoujo manga però con risvolti imprevisti decostruendo quindi le aspettative del genere a un certo punto nella seconda metà degli anni 80 si è stancata di stare in Giappone si è andata negli Stati Uniti dove si è sposata e si è messa a fare altro nella vita ad esempio con suo marito lavoravano in una lavanderia oppure hanno aperto un locale per il karaoke quindi personaggio leggendario che per qualche motivo si è allontanato dal mondo del fumetto e dell'arte per poi ritornarci solamente molti anni dopo con Kai Maeda conosciuto anche come Umi Maeda si inizia a entrare in quel gruppo di mangaka di cui magari sembra che abbiano pubblicato solamente una storia a caso su qualche rivista per poi scomparire nel nulla infatti in questo caso ho trovato solo qualche pagine che erano state pubblicate negli anni 70 su una rivista erotica in cui ogni tanto c'erano qualche autore più o meno importante che disegnava delle storie con risvolti sessuali e in questo caso la storia parla di giovani degli anni 70 che si dichiarano poeti e soldati non della carta e dei campi di battaglia ma della carne sotto le coperte del letto e come stile mi ricorda molto Shinichi Abe ma purtroppo di Maeda non sembra che esistano delle antologie che raccolgono le sue opere neanche in Giappone quindi molto difficile sapere se abbia mai pubblicato qualcos'altro oltre a questo se sei un fan degli entai forse ti è capitato sotto mano qualche storia di Enmaru macino che più che farti eccitare o preoccupare per le scene estreme che disegna ti fanno ridere comundemente per quanto siano assurdi e disegnati in maniera decisamente umoristica e non sessuale ci trovi dentro un po' di tutto tra ragazze con lano che contiene interi mondi oltre che a far uscire montagne assurde di cacca oppure ci sono strani alieni o insetti giganti che seducono le donne terrestri insomma delle cose talmente perverse ed estreme e disegnate senza prendersi troppo sul serio che alla fine lo considero più come un manga divertente piuttosto che un manga porno devo dire che di suo si trova qualche storia tradotta dai fan in inglese anche se di dialoghi non ce ne sono poi molti però ci tenevo a inserirlo in questa lista visto che è talmente pazzo ed estremo che credo che nessun editore in occidente avrà il coraggio di pubblicare qualcosa di suo in versione fisica Osamu Kanno è nato nel 53 e ha iniziato a pubblicare manga tra gli anni 70 e 80 e anche lui ha un certo stile che si riconosce subito con quei volti scavati e spigolosi con le proporzioni irreali dei corpi e poi partendo da situazioni della vita quotidiana dei giapponesi salta fuori con delle scene assurde o surreali a cui puoi dare un sacco di significati che preferisci anche di lui è stata pubblicata una storia in inglese su AX alternative manga ma naturalmente solo una minima parte di tutte le opere che ha pubblicato in Giappone con contenuti fantastici che forse non scopriremo mai anche di Akechigoro non si sa quasi nulla e l'ho scoperto solo perché qualcuno ne ha parlato su Twitter pubblicando delle pagine di una sua storia che era stata pubblicata su qualche rivista negli anni 70 e in queste pagine si vede un uomo che cammina triste per la città finché non incontra una ragazza misteriosa seduta sull'altalena che ha un girasole disegnato sulla maglietta credo che anche in Giappone sia un autore dimenticato e ho provato a cercare qualche informazione su siti e wikipedia giapponese ma non ho trovato nulla quindi è difficile sapere quanti altri manga abbia disegnato prima di sparire per sempre di mangataro te ne avevo parlato nel video su Earthful Company visto che in Francia sono usciti un paio di suoi volumi però sempre troppo poco rispetto a tutte le cose pazze che hanno pubblicato in Giappone con il suo stile a metà tra delle caricature deformate piene di dettagli e scarabocchi che prendono in giro il classico stile manga mettendo assieme stili diversi in storie demenziali piene di situazioni imprevedibili una delle cose più belle è come trolla il lettore copia incollando gli stessi disegni in situazioni diverse oppure ripetendo all'infinito le stesse gag anche da una serie all'altra ad esempio in molti dei suoi manga prima o poi c'è qualcuno che cade dalle scale e viene investito da un camion e in momenti totalmente a caso che non c'entrano nulla con la storia oppure in altre serie fa delle cover dei volumi che sembrano dei manga per ragazzine o per adolescenti con personaggi bellissimi e poi apri le pagine e ci sono invece questi mostri orrendi disegnati male per il senso comune che cagano o fanno sesso tra di loro insomma Mangataro è un grande eroe e mi auguro che i suoi volumi usciti in Francia abbiano avuto abbastanza successo così magari si decidano finalmente di pubblicare altre sue cose anche da noi anche in italiano da quel poco che sono riuscito a trovare di Shigeiro Okada credo che potrebbe diventare uno dei miei mangaka preferiti se solo fosse tradotto infatti ci sono delle tavole che mischiano un sacco di stili e particolari diversi con storie che sembrano andare dal surreale al demenziale completo in particolare c'è il suo Anjuku Kitsu che sembra un volume splendido con battaglie tra giovani teppisti e alieni di altre dimensioni con poteri paranormali sembra che abbia iniziato a pubblicare manga nel 1999 e a quanto si legge su wikipedia giapponese sono usciti delle sue antologie e dei suoi volumi fino al 2011 quindi di materiale potenziale ce n'è davvero tanto anche di Michio Isauci che ne avevo parlato nel video su Japan's Jungless Day che è uno dei suoi pochi racconti che hanno tradotto in occidente anche se quasi nessuno se lo ricorda ed è un autore nato nel 1951 che ha iniziato a pubblicare Sugaro attorno alla metà degli anni 70 con questo suo stile molto pulito e grafico sembrano quasi delle illustrazioni per enciclopedie oppure in altri casi delle opere surrealiste che mi ricordano un po' Seiichi Hayashi e in quelle due storie che ho potuto leggere ho trovato un bel mix tra dei futuri fantascientifici assurdi e dei racconti di guerra surreale ma vedendo online con le pagine delle altre sue opere uscite solamente in Giappone si trovano anche dei personaggi vestiti come degli europei dell'ottocento però con poteri psichici e tante altre tavole che mi incuriosiscono un sacco Tsimitsu Ju mi ricorda un po' lo stile Tauma di Yusaku Akanuma infatti disegna questi personaggi stilizzati con delle proporzioni fantastiche che si muovono per avventure imprevedibili e combattimenti che sembrano immaginati da qualche bambino appassionato di shonen il tutto ha un certo fascino surreale che mi ispira tantissimo e da quanto ho capito tutti i suoi manga sono autoprodotti e li vende direttamente lui dal suo sito oppure durante delle fiere di doujin comunque se lo segui su twitter puoi sapere cosa sta pubblicando in questo momento e apprezzare almeno i disegni anche se non sai il giapponese kazuhiro watanabe sembra un po' south park in versione garo tra l'altro su wikipedia giapponese dicono che ha anche proprio lavorato a garo come caporedattore per alcuni anni e disegna questi personaggi con delle proporzioni scombinate in situazioni esplicite tra sesso morte e parodia della vita quotidiana giapponese negli anni 70 e 80 a quanto parlo ha disegnato le sue storie anche per alcune riviste erotiche ed era abbastanza apprezzato in giappone prima di morire per un cancro al fegato nel 2007 masami guci è un altro degli autori di garo ovviamente e anche lui sembra che non abbia pubblicato dei volumi singoli di raccolta delle sue opere quindi col passare degli anni è stato dimenticato anche dai giapponesi dalle poche pagine che si trovano online ha decisamente tutto il fascino degli autori degli anni 70 con delle tavole surreali piene di particolari e simboli anche se questa in particolare sembra che sia una storia disegnata nel 92 e una delle cose peggiori nello sfogliare dei numeri di garo è proprio rendersi conto che è pieno di autori dimenticati come questo e ce ne sarebbero a centinaia da riscoprire yoshiharu mitsumoto altro autore di cui non si trova praticamente niente online o almeno io non sono riuscito a trovare un granché a quanto pare è nato nel 1969 e ha pubblicato le sue storie su diverse riviste fin dai primi anni 90 e anche qui sembrano un bel mix tra storie di contestazione giovanile con un po' di umorismo demenziale il tutto è disegnato con uno stile punk etahuma tra scarabocchi e stili diversi messi insieme e in questo caso in Giappone sembrano usciti diverse antologie o comunque volumi che raccolgono i suoi fumetti tra cui l'ultimo sembra essere stato pubblicato nel 2009 Kenji Sawada è tra gli autori di questo video che ha uno stile più normale rispetto agli altri però in quelle pagine che ho visto le sue storie sembrano un mix bellissimo di teppisti giapponesi con poteri paranormali che combattono tra di loro e parlano con gli insetti di altre dimensioni anche le tavole hanno un bel contrasto tra bianchi e neri e c'è sempre un certo vapore o aura spirituale attorno ai protagonisti tra una vignetta e l'altra e tutto questo mix mi dà una certa impressione di un autore che non si prende troppo sul serio e si diverte un sacco a disegnare delle situazioni epiche e imprevedibili Nakagawa o Meopashi sono praticamente due autori che disegnano insieme sotto lo stesso pseudonimo e hanno iniziato a pubblicare storie nel 2006 prima in modo amatoriale e poi anche su delle riviste giapponesi e sono dei fumetti completamente spastici che uniscono delle cose disegnate con paint delle figure astratte e foto di Kafka e altri simboli esoterici a caso e tutto questo mix ti dà l'impressione che anche potendo leggere il giapponese non capiresti comunque niente e quindi sembra davvero bellissimo ultimamente molti dei loro manga li pubblicano direttamente online su un loro sito però in Giappone dovrebbero essere anche usciti dei volumi cartacei che raccolgono tutte le varie storie come stile Toyo Kataoka mi ricorda un po' una specie di nemoto che non ha poi osato più del dovuto però il fascino dei suoi personaggi sporchi e deformati rimane sempre lo stesso è nato nel 1958 è iniziato a pubblicare manga negli anni 90 su riviste come il solito Garo e i suoi fumetti raccontano la vita quotidiana di operai casalinghe bambini anziani che vivono nei quartieri poveri del Giappone in un periodo storico che è rimasto bloccato nel dopoguerra di suo hanno tradotto una storia su AX alternative manga però dopo questa l'occidente si è dimenticato delle sue opere Genpei Akasegawa è un artista abbastanza famoso in tutto il mondo però in occidente pochi sanno che ha disegnato anche dei manga surreali come Sakura Gao pubblicati negli anni 70 su diversi giornali e riviste tanto per dire in una di queste storie c'è anche una parodia demenziale di Nejishiki e sembra una bella esplosione di sperimentazione e contestazione giovanile anche questo in alcuni punti mi ricorda un po' Seichi Ayashi in Giappone è uscita un'antologia bellissima che raccoglie molti dei suoi manga e sarei tanto contento di vedere questo volume tradotto anche in occidente Anche di Emori Ai purtroppo sembra rimasta solamente una storia breve di qualche pagina che in questo caso mi ricorda molto Sasaki Maki con vignette legate tra loro da un certo filo onirico e situazioni surreali che puoi interpretare a piacere cercando online non si trovano altre informazioni su questo autore c'è un cantante con lo stesso nome ma credo che non sia la stessa persona però ho trovato su qualche vecchia rivista un elenco delle storie pubblicate e c'è anche il suo nome purtroppo senza foto del manga però almeno sappiamo che ha disegnato altre cose quindi potrebbe esserci abbastanza materiale da scoprire se qualche fan giapponese si mette a spulciare le vecchie riviste di quegli anni e poi magari li scannerizza e li mette online Giù un site l'ho scoperto a caso su Twitter e mi ha conquistato con questo stile grezzo e le storie a metà tra il lynch di strade perdute e i b-movie trash senza limiti con ambientazioni ispirate dalla cultura americana ci sono ermafroditi che tagliano metà zombie e poi fanno sesso nel deserto oppure animali selvaggi che mangiano dei peni e scheletri volanti disegnati con scarabocchi a penna o matita davvero delle tavole affascinanti nel terzo volume di Gleolia c'è la sua prima storia tradotta in occidente in inglese e sembra che verrà anche pubblicato in Francia prossimamente uno dei suoi volumi quindi potevo anche non inserirlo in questa lista però ci tenevo a parlarne e mi auguro che continuino a tradurre le sue opere naturalmente naturalmente non posso fare un video di questo tipo senza citare Takashi Nemoto e che fino ad oggi purtroppo è stato tradotto solo una manciata di volte quindi il 90% delle sue opere rimane solamente in giapponese fino a qualche anno fa il suo Bureiko Lullabai non se lo cagava nessuno invece nell'ultimo periodo è diventato raro e vendono le copie a più di 100 euro e di Nemoto te ne avevo già parlato nel video su manga Itauma infatti il suo stile è esattamente quello un concentrato di disegni brutti bellissimi tanta violenza e sesso estremo talmente assurda da farti ridere per questo mix di situazioni davvero surreale e poi un pizzico di critica sociale mostrando le difficoltà dell'uomo comune in Giappone non tutte le sue storie sono così malate come quelle che si vedono in Bureiko o Lullabai però ha comunque pubblicato tantissime cose e quindi c'è un sacco di materiale davvero psicopatico che varrebbe la pena tradurre anche da noi capisco che queste sue storie sono un po' troppo estreme potrebbero creare qualche scandalo però Nemoto è un autore cult talmente importante che prima o poi sono sicuro che qualche editore occidentale si metterà di impegno e farà un'antologia completa di tutte le sue opere anche di Yuka Goto hanno tradotto un paio di storie su AX alternative manga però sono davvero una piccolissima parte di tutti i suoi manga che sono usciti in Giappone è nata nel 1978 e ha iniziato a disegnare su diverse riviste all'inizio degli anni 2000 ha uno stile etahuma con storie imprevedibili che parlano di supereroi demenziali violenze quotidiane demoni infernali e storie d'amore assurde anche lei lavora come artista e alcuni dei suoi manga si trovano da leggere gratuitamente online se vuoi almeno apprezzare i disegni ogni tanto sul canale discord dei prepper di Gekigemu scherziamo immaginando di fondare una casa editrice etahuma per tradurre e pubblicare tutti questi autori affascinanti che non si è ancora cagato nessuno o quasi quindi puoi immaginare questo video come la nostra linea editoriale immaginaria con alcuni dei mangaka che ci hanno fatto innamorare per il momento mi fermo qui con la lista però naturalmente ci sono molti altri esempi di questo tipo e magari ne parlo meglio in futuro intanto nella descrizione del video ti metto la lista completa degli autori che ho citato e gli eventuali link per approfondirli o recuperare i pochi volumi usciti anche in occidente se vuoi vedere le nuove scoperte che farò nei prossimi mesi puoi controllare ogni tanto quelle che metto su twitter oppure semplicemente aspettare i prossimi video di Gekigemu su manga e videogiochi strani e dimenticati a di Gekigemu Grazie.